Ciao a tutti ragazzi, io sono Fabiola e lavoro nel salone di Toning Guy Milano Turati. Oggi volevo farvi vedere come applicare una maschera, soprattutto su chi ha i capelli lunghi come i miei e non sa mai la quantità e il metodo di applicazione. Dividiamo la testa in due sezioni e iniziamo a lavorare su una. Quindi io la divido in due sezioni, mi aiuto con una clip, inizio a pettinarla, mi aiuto con le mani, prendo il prodotto, una noce di prodotto, la massaggio sull'altra mano e inizio ad applicarla da metà lunghezza sulla punta. Dopodiché faccio questo lavoro, un torsion, che avvolgiamo e così tutta la testa. Una volta che avete applicato tutta la maschera sui vostri capelli, dovete lasciare agire la maschera per 5-10 minuti. È consigliato mettere un asciugamano o un panno caldo, in modo che imprigioniamo tutta la maschera. Ok ragazzi, il risultato è questo. Come potete vedere sono molto luminosi e molto morbidi. Vi auguro a tutti un grosso in bocca al lupo, mi raccomando state a casa e ci vediamo presto nei nostri saloni. Un bacio!